non dire una parola sono io ma che mi devi aiutare leggero i tuoi pensieri tu vieni da molto lontano dammi dire niente tu vuoi farmi fare un abbonamento a una rivista scientifica non parlare, non parlare, non parlare tu vuoi che faccia un'offerta al club dei giovani marinai Doc io vengo dal futuro sono arrivato qui con una macchina del tempo che tu hai inventato e ora ho bisogno del tuo aiuto per tornare all'anno 1980C mio dio non sai che cosa significa questo significa che questo dannato agenza non funziona sei in mezzo di lavoro per niente tu sei il solo che sa come funziona la tua macchina del tempo macchina del tempo io non ho inventato nessuna macchina del tempo ok ok va bene grazie